90 minuti per rendere omaggio all'idolo calcistico che due giorni fa è morto all'età di 60 anni, Diego Armando Maradona. Tante le manifestazioni di cordoglio per una celebrità del calcio italiano. In tanti comuni d'Italia, ma anche nel Cilento, le amministrazioni comunali lo hanno voluto ricordare accendendo le luci negli stadio della propria città. Nel comune agropolese, nella giornata di ieri, lo stadio Raffaele Guariglia ha puntato i riflettori sul campo di gioco per 90 minuti, lasciando aperti gli spalti. Attraverso le spettacolari immagini di alta prospettiva abbiamo deciso di emozionare i tanti tifosi e i cittadini che piangono la celebrità del calcio Diego Armando Maradona. L'obiettivo del drone, pilotato da Claudio Ruocco, ha saputo cogliere il rettangolo verde senza giocatori, senza pubblico, senza striscioni né cori, in un silenzio assordante per ricordare il genio assoluto del calcio italiano. Stessa emozione è stata replicata nel campo Carrano a Castellabate, dove la polisportiva Santa Maria 1932 ha voluto omaggiare il calciatore con l'accensione delle luci per 90 minuti. Qui la polisportiva Santa Maria 1932 ha formato il numero 10 nel campo da gioco e grazie alle riprese aeree di Gerardo Scognamillo si è riusciti ad emozionare tutti. Diego Armando Maradona è stata una personalità che è riuscita in vita ad unire tantissimi tifosi e dopo la sua morte gli stessi, nonostante la pericolosità degli assembramenti, hanno sfidato la pandemia per non lasciare solo lo stadio San Paolo a Napoli, teatro di innumerevoli partite di calcio giocate dal numero 10 per eccellenza. Diego Armando Maradona resterà indelebile nel cuore di chi lo ha vissuto, tifato e amato. Grazie a tutti i nostri amici.